Siamo a Fano, all'associazione culturale Il Sentiero dell'Anima. Qui con noi c'è la dottoressa Stella Primari, pedagogista clinica e psicomotoricista funzionale. Ci può dire che cos'è la pedagogia clinica? La pedagogia clinica è una scienza che si occupa dei bisogni della persona di ogni età e intende soddisfarli con tecniche educative capaci di soddisfare tutte le persone dal bambino fino all'anziano. Quali sono i corsi che terrà qui al centro? I corsi che terrò al centro sono dei corsi basati sulla psicomotricità funzionale del bambino da 0 a 3 anni e educherò i genitori a capire come funziona la motricità del bambino. Farò altri corsi basati su chi educa, il babbo o la mamma, quindi dare l'importanza molto sull'educazione del padre e della madre e corsi invece sulla consapevolezza personale, utilizzando il disegno onirico e lo psicodramma olistico. Sono delle tecniche, delle metodologie fatte in gruppo con persone dove utilizzeranno il disegno e poi drammatizzeranno ciò che hanno disegnato. Tutto ciò serve per acquisire una maggiore consapevolezza in se stessi, più fiducia in se stessi e scoprire i propri talenti. Quindi un viaggio all'interno di noi stessi? Sì, esatto. E quando è che terrà questi corsi? I corsi vanno da ottobre, dal 16 di ottobre si inizia con la psicomotricità funzionale, fino a marzo, ogni mese più o meno ci sono dei corsi tenuti da me. Grazie mille per l'intervento. Prego. Grazie mille per l'intervento. Grazie mille per l'intervento.